E' un grande onore per la città di Viareggio perché lui ha veramente voluto allestire questa mostra a Viareggio, ci teneva tantissimo e quindi noi siamo particolarmente grati perché oltre alla sua arte assoluta riconosciuta appunto in tutto il mondo, Ivan Taimer è ancora un portatore di valori. Attraverso la sua arte c'è un forte impegno civile, lui ha una storia di migrante quindi racconta le migrazioni, racconta il mescolarsi delle civiltà. E' con grande entusiasmo che l'assessore alla cultura della comune di Viareggio, Rossella Martina, presenta la mostra dell'artista Ivan Taimer allestita presso Villa Argentina. Sculture e pitture che raccontano i temi dell'immigrazione. Da parte dell'artista arriva anche una riflessione sulla sa cara Monteggiori nel comune di Camaiore. In un quadro Taimer racconta l'abbattimento di alberi a lui particolarmente cari. 150 anni fa c'è uno nonno, bisnonno, che ha piantato un cipresso e ogni cipresso si metteva quando c'era uno morto. Allora, voglio dire, non sono cipressi così, questi cipressi portano i nomi di ciascuno di noi. Allora, quando si sega la memoria così, allora è una cosa terribile. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della provincia di Lucca. Si fa cultura, si fa attraverso Taimer e parliamo anche di diritti umani. L'abbiamo voluto in un luogo come questo perché per noi del FAI sappiamo l'importanza che ha Villa Argentina come diciamo proprio anche luogo del cuore per tutta la Versilia.